Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera, chiedo ai giovani in fondo di seguire, non parlate, raccomando se no non vi do né crediti né alternanza scuola-lavoro, qualche botta vado a ogni vedemma, quindi silenzio, per essere precisi, per essere chiari. Bene, intanto bentrovati, questo è il terzo incontro, oggi parliamo del Medioevo Narese, forse il periodo più affascinante assieme a quello barocco. Oggi il professore Novella ci spiegherà questa fase storica in modo molto esaustivo. E' conciso. Di valorizzazione della zona delle necropoli e qui, volendo, potete passare e guardare. Ribadisco anche che ancora c'è la possibilità di iscriversi e i fogli sono fuori. Poi un'altra cosa, soprattutto per i ragazzi, a quelli che interessano i crediti formativi e l'alternanza scuola-lavoro, all'uscita troverete questo foglio dove dovete firmare la presenza al corso, perché se non firmate questa presenza non possiamo rilasciare né uno né l'altra cosa per una questione di correttezza. Le iscrizioni sono ancora aperte. Il prossimo incontro, io cerco di andare veloce proprio per dare più spazio al professore Novella. Il prossimo incontro, il venerdì prossimo, parleremo della narro barocca con il professore verde. Due notizie, una notizia, dal prossimo sabato, abbiamo fatto un sondaggio noi contemplativi, dal prossimo sabato di pomeriggio, cioè intorno alle ore 16.30, abbiamo pensato di organizzare una serie di proiezioni di film, un cinematografo, ma non con film moderni, con film attuali, con i film di una volta, quelli che piacciono ai nostri nonni, ma anche a noi, stile Ursus, Ercole, John Wayne, queste cose. Serve per dare l'opportunità a tutte le persone diversamente giovani di venire a passare un po' di tempo a casa contemplativa. Abbiamo fatto un sondaggio qua davanti, ma anche fuori, alle persone diversamente giovani e sono entusiasti, quindi dal prossimo sabato alle 16.30, stiamo vedendo, poi ci sarà la pubblicità su Facebook, inizieremo anche questa attività totalmente gratuita, quindi passate parola anche voi. All'uscita trovate sempre la cassettina per darci l'opportunità di mettere qualcosa da parte per poter organizzare liberamente senza impegno. Una cosa che vi chiedo, e vi dico di ringraziare i vostri nipoti, i vostri figli, è successa una cosa bellissima, professore. I ragazzi delle scuole elementari, spronati dalle responsabili di classe, si chiamano, dai rappresentanti di classe, hanno raccolto qualcosina, ogni classe, per casa contemplativa, per darci una mano per comprare lo scoiattolo per fare accedere le persone che hanno problemi all'interno di tutte le stanze. E questa è una cosa bellissima, io vi ringrazio, sicuramente saranno i vostri figli, i vostri nipoti, vi dico grazie, faremo anche un grazie ufficiale più, credo, domani. Ed è una cosa bellissima, questa cosa mi ha emozionato tantissimo. Saluto l'avvocato Giovanni Rinaldi che è qua stasera con noi, anche lui è un benefattore di casa contemplativa, è in vacanza a Naro e stasera è qua con noi. Bene, io passo la parola al professore Novella. Grazie Massimiliano, scusate la voce ma il raffreddore stasera si fa sentire di più. Intanto un cordiale benvenuto ai meno giovani e questa sera quando vedo anche ai giovani o meglio più giovani. Stasera parleremo del Medioevo di Naro, sicuramente del ricordo storico della scuola, sapete che il Medioevo forse è un periodo molto astruso, però il Medioevo di Naro non è tanto astruso, è forse il periodo più bello che abbiamo avuto in questa antica città. E cercherò di essere anche breve e conciso e principalmente non vi farò annoiare. Quindi non sarà una lezione di storia ma piuttosto un racconto storico delle vicissitudini di Naro. L'ultima volta, almeno nel mio ultimo incontro con voi, si era parlato delle leggendari origini di Naro. Eravamo arrivati ad una serie di nomi di Naro che ho avuto nel corso dei millenni. Dal primo a Gragande, poi abbiamo avuto Inico, Indara, Gragande Ionicum, fino ad arrivare a Nahr, Nahr, dal cartagenese villaggio del fuoco, a Naru, all'arabo Naro, che fiamma significa in idioma amoresco. Quindi siamo arrivati a questo periodo, per cui dopo le vicissitudini bizantine, come sapete poi la storia della Sicilia è molto attaccata con la storia dell'Oriente, e l'ultimo, chiamiamolo dominatore o meglio, forse uno dei contattieri che voleva la Sicilia libera e indipendente dal dominio bizantino, è stato a Eufame la Messina. È stato sconvito diverse volte e quando qualcuno ha capito che per lui non c'è più da fare, se ne va a Tunesi e chiede l'aiuto all'intervento degli arabi. A questo punto la Sicilia diventa preda degli arabi. Nell'827 una grande flotta sbarca a Massava, a Mazzara, e a poco a poco incomincia la penetrazione tutta l'isola. Ma non è stata una campagna molto facile, perché gli arabi forse non si aspettavano resistenza, ce n'era pochissimo, perché i bizantini non erano grandi uomini d'arme, invece gli arabi erano gente di armi, come i romani. I romani erano contadini soldati e questi erano pastori soldati, per cui avvicinavano la fase della guerra con la fase della pace, perché quando andavano a combattere o a cercare nuovi vivi, sapevano anche come organizzarsi e come sopravvivere in quel posto. La Sicilia certo non era l'ideale come che era di conquista, perché c'era molto povera, i bizantini sono dei pradoni, non avevano dato niente alla Sicilia, a Naro in particolare. Con l'arrivo degli arabi, invece, si incomincia a cambiare una nuova fase per la Sicilia. Naro fu conquistato nell'829 dall'amiro Salemi, il fondatore di Salemi, e fu messo a capo con mille uomini circa. Dopo di lui si incomincia la potenza della città, che ebbe in quel momento il nome Naro. Naro, nella storiografia di Ruggero, con le drisi e il suo storico di corte, Naro è chiamato Casale, Casale Grande, Magnifico, che aveva dei mercati a giorno fisso, aveva tanti cambi da seminari e molte vigne. Un ricordo di queste vigne l'abbiamo al Delhi, incontrata nella zona di Naro, che significa grappolo vendente in arabo. Per cui gli arabi, oltre ad aver portato una nuova ideologia, perché per la prima volta forse l'uomo, o meglio l'essere umano, era considerato essere umano, non animale, come era considerato prima. Perché fino ai bizantivi, quando passavano da un signore all'altro, andavano gli animali, le case e gli uomini. Gli servono come animali, quindi neanche erano come persone. Quegli arabi invece si incomincia a capire che l'uomo ha una sua funzione. Magari aveva un'altra fede, però pagavano per poter professare la religione cristiana, però erano considerati uomini. E la donna aveva avuto un grande posto, come i tempi dei Romani. Io altra volta avevo fatto un particolare, una battuta più che altro, dicevo ma avete saputo perché abbiamo a Naro molte balconi e molte giardini? Se voi vi fate notare, in via Piave c'è un bellissimo giardino vicino alla chiesa, e con un giardino con delle mure molto alte. Non c'erano degli inferiati, ma c'erano mura, perché evidentemente quella doveva essere la casa di qualche emilo o di qualche personaggio importante arabo, in cui con quel giardino la moglie poteva prendere il sole secondo il modo nature, per cui non c'era l'occhio indiscreto del vicino. Un altro esempio l'abbiamo nella casa del conde Alfonso Vietani, dietro la casa c'è un bellissimo giardino con le mure pure fatte molto alte, quindi anche questo è un retaggio arabo. Come per esempio il fatto dei balconi, il balconi è un altro retaggio arabo, perché certo gli arabi non sono gli arabi di ora, ma gli arabi diciamo con una certa mentalità, molto intelligenti, evoluti, che hanno portato a tanto benessere e come sappiamo tutti noi siciliani ci facciano sempre di essere grandi e gelosi, in effetti non è sbagliato, perché noi discendiamo dagli arabi, anche se vedrò un particolare ora, un po' inquietante. Gli arabi abbiamo ereditato oltre la loro intelligenza, la loro ricchezza, il modo di lavorare in campagna, ma anche la gelosia, gelosia però che loro la mostravano al 50%, o meglio davano alle donne il 50% del diritto. Le donne certo erano sempre accompagnate da un'angella, da qualche anziano di casa, per cui si sentivano un pochino osservate e costrette a un comportamento molto retto, volevano più libertà. Allora l'arabo certo, in quei tempi parlava di libertà non era facile, specialmente libertà della donna, e allora l'uomo arabo ha pensato bene di dare questa libertà, ma sempre al 50%, allora pensa di far costruire questi balconi per dare la possibilità alla donna, se voleva uscire da casa fuori, usciva sul balcone e non poteva dire che il marito non la faceva uscire fuori di casa, perché era fuori di casa, contemporaneamente non era fuori, ma era all'interno perché era circoscritta, perché diciamo che tutti e due al 50% si potevano accontentare di quello, ma non è solo che si è battuta queste vicerie, queste leggende metropolitane che si parla degli arabi, ma piuttosto che gli arabi hanno portato un modo di vivere diverso. Intanto con gli arabi abbiamo finalmente una forma di città, Naro, fino al periodo arabo, dicevo, si svolgeva in due parti, avevamo due Naro, una Naron, Naro ne viene da Naro scorrere, scorrere, scorrente, nella zona di Pavareti, e un'altra, Naro, villaggio delle Fiamme, nella parte alta. Gli arabi quando arrivano non hanno bisogno più di una zona bassa, ma piuttosto di fortificazione, allora abbandonano la parte di Naron e fortificano la parte di sopra, Mahar, per cui già abbiamo una forma politica ben precisa, abbiamo un castello già edificato e poi abbiamo anche una moschea, quindi il potere politico e il potere religioso, cioè la città era fatta ormai, quindi avevamo tutte le amministrazioni, le leggi e anche lo scopo culturale della religione, che aveva anche loro un'importanza molto vitale, quasi quando la politica. Quindi col periodo degli arabi Naro incomincia ad essere molto più ricercato e molto più evoluto. Intanto la campagna rifiorisce, sono quelli che hanno inventato le gebbie, cioè la raccolta delle acque durante il periodo invernale per poterlo utilizzare durante il periodo invernale per la società e poi per portare l'acqua alle gebbie. Hanno inventato le famose saie, quando dicevamo una saia, è un nome arabo, non l'abbiamo inventato noi, per cui hanno fatto tutte queste cose di grandi lavori idraulici. Non c'è questo, hanno portato gli agrumi, hanno portato la coltivazione del baco della seta, il cotone e tante altre cose. Quindi non si limitavano solo ad un'occupazione militare, ma anche a uno sviluppo commerciale e economico. Naro ha avuto diversi comandanti, o meglio, diversi emili, ma più che emili erano dei segnalotti locali, perché voi sapete che poi l'impero arabo si è nembrato in tanti piccoli stati e il lotta tra di loro. Per cui in un certo periodo la Sicilia fu tutta araba, preso compreso Palermo, però riuscivano a convivere, si chiamano siciliani, sicilioti, abbiamo gli greci, gli arabi e altre persone che abitavano già. Quindi c'era una grande idea dei cosmopoliti esattamente. Quindi la Sicilia diventava già un centro importante al centro del Mediterraneo, quindi aveva sempre quel ruolo di sviluppo culturale, religioso e sociale che ha avuto da sempre, perché il centro del Mediterraneo era meta di tante persone, di tanti popoli. L'ultimo emilo che abbiamo avuto meglio, ce n'è stato un altro, che forse ha quello che ha determinato come signore di Naro e poi signora anche della Sicilia, l'arrivo dei normanni, era Ibn Avrash. Questo era un signorotto che, dicono le croniche, finango le monache trasse nel suo harem. Quindi considerate che tipo era. Invece un altro era Ibn. Questo Ibn significa signore. Timna è stato l'ultimo arabo, signore, che si è opposto a questo qua e non potendo più riuscire a mantenere il proprio governo, sbarca in Calabria e chiede l'intervento dei normanni. Ecco perché i normanni arrivano in Sicilia. Come sono arrivati gli arabi chiamati da un arabo. Cioè tutto Ciccio e Proto Musu, insomma, che aveva bisogno, chiamava gli altri. I normanni chi erano? I normanni erano vichinghi, venuto dalla Svezia, la Norvegia, ed erano assolto dei signorotti di quel tempo. E in più, in quel periodo, era assolto dei francesi, o meglio, dei signorotti Carlo il Calvo, Carlo Martello, tutti questi re dell'Orange. E nel ricordo, diciamo, con il pagamento, non ne pagavano i soldi, ma a terra. La Normandia prende il nome dei normanni perché ha avuto questa terra in regalia, per il pagamento dei servizi resi con i mercenari vichinghi. Dopo questo periodo, diciamo che sapete benissimo che un cavaliere a quei tempi, basta avere un cavallo, una spada, una lancia, uno scudo, era un cavaliere, quindi era un personaggio importantissimo, però per mantenere questo bisogna avere un po' di assente, perché questi qua che erano predoni del deserto, predoni dei mari, avevano fatto un'organizzazione, non erano più dei soldati singoli, ma avevano formato proprio un esercito con un capo, quindi diventò la Normandia il primo stato ufficiale dei normanni. Per cui tutti chiedevano l'aiuto di questi mercenari, compreso anche il Papa. Il Papa a un certo punto ha visto che gli arabi stavano espandendo un po' troppo e siccome poteva solo fermarli, allora chiede l'intervento di questo Tangredi, il primo, e poi di Roberto Guiscardo, l'astuto, per scendere verso il sud dell'Italia per cercare di fermare l'invasione araba. In un certo punto ci sono riusciti, però quando Ruggero, questo Roberto Guiscardo ha capito che il Papa faceva solo per proprio tornaconto, hanno preso il prigioniero Nicolò II che era il Papa e hanno obbligato a riconoscerli signori gran compi di Puglia, quindi avevano già un domino in Francia e un'altra più prima dell'Italia. Ma non è finita così. Quando hanno visto che gli arabi hanno diventato potenti, cosa hanno pensato di fare? Intanto Roberto Guiscardo era morto e c'era Ruggero. Ruggero era la famosa Altaville, Hotteville, ed era il capo di tutti, riconosciuto da tutti i normanni che erano sia in Francia che in Italia. Per cui diventò il capo dinastico. Lui cosa ha fatto? Ha voluto il Papa l'aiuto, si fa dichiarare gran compi di Sicilia, c'è un titolo altezzoso proprio, al massimo, e quindi incomincia l'invasione della Sicilia per cercare di liberare la cristianità dai musulmani e in cui incominciano le dorendi note, perché fino agli arabi abbiamo avuto un certo periodo di benessere tutta la Sicilia del Miledione, ma la Sicilia in particolare, con i normanni, incomincio le cose a cambiare, perché i normanni hanno sempre i predoni, per cui arrivando a un certo punto, quando loro prendono Palermo, prendono tutti, la Naro era rimasta ancora ferma, per cui l'ultimo emilo a Ibn Namud si era tringerato tra Naro, Castagiovanne e Sotera, quindi era un triangolo importante, però per sua disgrazia aveva la moglie e le figlie da Grigento, da Grigento non era più quella grande città metropolita dei tempi passati dai Greci, e la è semplicemente un villaggio, niente di che, quindi li prese effettivamente i prigionieri, quindi per costringere i benamuti ad arrendersi, fanno fare uno scambio. Certo, il demiro non può arrendersi facilmente, c'era una scaramuccia, una battaglia, lui perde, perché doveva tutto era una combina, era fatta, però la moglie e le figlie sono liberate, e lui come ricompensa, dandosi, converte a Cristian, si fa battezzare con il nome di Camoto, a ricordo di questo nella nostra zona c'è la zona Camoto, e che fu data da Ruggero all'ulto vescovo di Agrigento, e lì incomincia il figlio che imborava dei papi della chiesa, con il primo esempio è stato questo, dopo un cento villani è la zona di Camoto, quindi Ruggero in Gennaro, ma anche se non, diciamo, senza colpo ferire, non è rimasto insensibile, diciamo, alla sua vena di essere un gretone, intanto fece uccidere tutti i maschi, agli che erano a Gennaro, e infatti nelle nostre zone, mi potete dare atto, ci sono delle belle ragazze Brune, con gli occhi azzurri, per cui i normanni sono stati di casa, anche loro, come? Verdi, e blu, e azzurri. Finendo questo periodo, intanto il periodo normanno non è proprio un periodo brutto, era un periodo importante perché si parlava già di espansione, di organizzazione, di leggi, di gente, e Naro, il nostro castellano, ha avuto il grande privilegio, dato da Ruggero, di porre sul capo di Ruggero II la corona, per cui la castella di Naro era morta in vita. Il primo castellano che ha fatto, diciamo, avuto questo grande privilegio fu Pietro Carvello. Di questo voglio parlare perché, parlando del castello di Naro, questi sono i castellani che attraverso le mie ricerche, aiutato dal professore Pietruzzella, dal bibliotecato Leone e da Fras Saverio, si sono riusciti a mettere in ordine cronologico quasi, manca qualche dato, i castellani di Naro fino al 1500, diciamo, nel 1556, mentre il primo è stato questo Pietro, questo salvatore Palmieri Miles. La famiglia Palmieri discende da questo Palmieri che era Ruggero, ed è quello che in un singolo artenzone ha sconvitto Lemiro di Ravanusa, mulcibili, mulè, a combattimento. Per cui c'è nel manoscritto di Fras Saverio una foto bellissima che parla e che vede questo, presenta tutto questo combattimento. Quindi questi sono tutti i castellani fino al 1956, però, diciamo, col periodo, questo diciamo, del Medioevo, il castellanale è stato anche un teatro di impatto delittuoso. A questo punto parliamo alla leggenda di Madonna Gesella, penso che tutti la conoscerete. Però, dico, c'è sempre bello sentirlo, perché ogni castello che si rispetti deve avere un vandalme e non ti scappa. Però questo di Gesella è un fatto storico, perché questo, il personaggio di Giovane, Pietro Giovanni Calvello, era figlio di questo Pietro Calvello, signore di Naro. Per cui lui fu, diciamo, nel 1156 circa. Lui era un grande condottiero, come uomo non era un granchè, era un pochino robbo, qualche difetto l'aveva fisico, la faccia tagliata, per dicendo, c'è un tipo poco raccomandabile come marito, non era una donna, però era un grande guerriero, per cui era sempre in giro a fare il suo dovere di guerriero. Per cui la moglie, Gesella, era una ragazzina a quei tempi, ero anzianissimi, con gente, con delle ragazze proprio piccole, 16 anni, 18 anni. Voi sapete che ogni corte, ogni castello, oltre a avere l'angella, la notrice, c'era anche il menestello, era una prassi, infatti, allora tra un liuto, tra una canzone di dirigente, succede il frattaccio sulla torre. Per cui lui viene avvertito sicuramente da qualche angella traditrice, ritorna nottetempo, sorprende i due amanti, uccide lui una pugnamata, lo butta giù dal castello, dalla torre e la richiude in quella stanza, che è stata ritrovata durante il periodo del lavoro di restauro del castello. Si dice che si è morta di fame e di dolore e nelle notte di ottobre, siamo in questo periodo, nelle notte di luna, c'è un bianco bandana che si aggira sui merli del castello e Madonna Gesella che va alla ricerca della madre Bertrand. Si dice anche, ma dice la tradizione popolare, che si sente un suono, un canto di uccello sul merlo, quindi evidentemente Bertrand ritorna a cantare ancora una volta per la sua madre. Certo, è una leggenda, facilmente smontabile, perché voi sapete benissimo, a quei tempi, diciamo 30-40 anni fa, la lavatrice non genera, asciuga tutto, non genera neanche, quindi la gente metteva i panni in forza a stendere, magari un colpo di pente avrebbe preso qualche lenzolo o qualche fede, sarebbe andato da quelle parti sulle mele, quindi c'è il bandana, ma però tutto può succedere, altrimenti hanno fatto molti servizi, i bandana esistono, quindi è sempre bello a sentire che c'è un bandana. Dopo il periodo, diciamo, del periodo normanno, arriviamo al periodo forse più importante Bernardo, al periodo dei Chiamonti. I Chiamonti chi erano? I Chiamonti venivano da Clermont della Percardia, erano pure normanni, erano pure dei signorotti al servizio di chi avesse bisogno. Quando scendono qua in Sicilia, diventano così siciliani da interpretare il senso di libertà e di indipendenza dalla corona spagnola. In quei tempi è nata e coesistevano due fazioni, o anche in Sicilia. La fazione catalana, erano i Mongara, i Valguarnera e gli Alagona. I Mongara, attualmente quelle di Agrigento, discendono da loro. Invece c'è la fazione latina, i Chiamonti, i Palizzi, i Ventimiglia, il Grande Ammiraglio, i De Castelletti e i Migliaccio, gli attuali Milazzo, questi sono alcuni nomi. Per cui queste due fazioni si combattevano per il dominio dell'isola. Però dobbiamo dire una cosa, a Maro sono coesistite per parecchio tempo due personaggi importanti. Andrea Chiamonte, per un certo periodo, e Malfrede è stato il massimo, e Blasco Lagona. Blasco Lagona si dice che sia nato nell'attuale palazzo del conte Ghetani, il palazzo della famiglia Lagona. Invece i Chiamonti avevano il loro pastello, però coincidevano due, quindi spagnoli. Però tutti e due avevano un sogno, quello di rendere indipendente Sicilia da forma spagnola. E una prova di questa è successo dopo la morte del re Martina, del re Federico III. Federico III ha una bambina, una ragazzina serigiana, l'invante Maria, che è come tutore Blasco Lagona. Però Blasco aveva altri programmi, altre cose, aveva pensato di farla sposare a Gian Galeazzo di Milano, in modo da poter staccare la siti dalla Spagna. Tutti e due facevano la stessa idea, sia i Chiamonti che però, con risultati diversi. Ma non è stato così, perché i Mongara, nonostante fossero parte di questo patto federale, hanno rabito Bianchamerie, si trovava ad Agusta, e l'hanno portata a Licata, per poterle imbarcare e poterla sposare lui stesso. Ma come questo incomincio a essere difficile, che succede? Che i Mambreri, Chiamonti e Andarichiamonti, a Naro andando c'erano sei porte nella città, noi lo vedremo, di cui l'ultima che fu fatta la famosa Porta Nuova, o Porta Licata, nell'attuale ingrocio con la Via Grande. Di là è stata aperta per far uscire le truppe che andavano verso Licata per andare a liberare la Lombarda Maria. A nove chilometri di Licata, nella zona sconvitta, c'è questo grande scontro tra le truppe diciamo Chiaramontane e le truppe Licatesi, chiamiamolo così, catalane, che perdono. E da quel momento, se voi ricordate bene, è nato un epiteto, così dice Licatesi Babbe, per questo motivo. Se c'è qualcuno di Licata, chiedoveni, ma dicono così. Non è colpa nostra. Non è colpa nostra, è colpa di Chiaramonti. E quindi perfetto. Di conseguenza però, dopo che hanno visto questi combattimenti, Mongara prende parte da Licata con la nave e la porta in Spagna. In Spagna, non può provare subito perché ce l'avesse, di lotta verso la Sardegna, dopodiché ritorna in Spagna e si sposa con Martino Giovanni, che poi è venuto a Naro in un seguito, al secondo tempo. Quindi con queste lotte, finalmente nel 1366 c'è questa famosa pace di Casagio Lan e la signoria di Naro viene affidata in perpetuo, dice i documenti, alla famiglia Chiaramonte. Ma non è finita così, perché Re Martino, il vecchio, il papà di Re Martino, ha visto che il potere di Chiaramonte era immenso. Loro avevano fatto uno stato dentro lo stato. Il potere di Chiaramonte andava da Casteltermene fino a Modica e Ragusa. Quindi era un triangolo nell'interno della Sicilia, quindi uno stato dentro lo stato. E questo non era per loro giusto. Una serie di combattimenti, una serie di guerre, finché si arriva all'ultimo, Chiaramonte, Andrea. Andrea Chiaramonte era il più giovane della Casata e si era tringerato nel suo palazzo il famoso Osterium, il palazzo fortificato. Si fa un accordo con Martino al vecchio, si dice che fanno un accordo, diciamo, stabile per la divisione della Sicilia, ma non fu così. Appena lui esce dal suo palazzo fortificato viene preso, dichiarato e condannato per fellonia, cioè per altro tradimento, viene decapitato davanti al suo palazzo Osterium. Nello stesso punto a Piazza Varina, dove fu ucciso il famoso tenente Petosino. C'è Petosino, la fatalità della cosa. Parlando della Sicilia di queste famiglie, perché c'è un certo accostamento, notate per esempio che la Sicilia è sempre stata terra di conquista, da sempre, però c'è stato un momento in cui questa conquista si stava cambiando. Andiamo al periodo di Giulio Cesare, era chiamata Sicilia Canaio di Roma e quindi era molto importante per Roma, per il suo sostentamento. Giulio Cesare aveva andato addirittura a Cicerone qua in Sicilia a visitare la Sicilia per vedere com'era. Cicerone aveva fatto una bella relazione, per cui da sul fondo di dare questa, diciamo come socio, ecco, forse, come socio della Sicilia invece lo uccidono e questo finisce. Nicchia Lamonti, che aveva combattuto per cento anni per la libertà di Sicilia, anche lui non si va ammazzata. L'ultimo tempo è stato, tra virgolette, il bandito Giuliano, per cui chiunque si fosse messo in destra di libera Sicilia, libera dal gioco di qualsiasi potenza, conviene che non lo fa più, perché fa tutta la stessa fine. E torniamo un pochino indietro, che non vi voglio annoiare, andiamo alle opere più importanti fatte in questo periodo. Intanto, con il periodo del Ruggiero, degli Normanni e dei Chiaramonti, il castello viene fortificato, diventa veramente un'amnesia di guerra e dobbiamo dire che se non fosse stato il castello, Naro non avrebbe potuto esistere, perché prima è stato il castello, poi tutto il resto. Un castello che sentiva per come opera di importante sia militarmente, sia anche di difesa. Perché di difesa? Abbiamo detto qualche volta un altro incontro che lo stemma di Naro porta tre torri con le fiamme, perché i cartagenesi avevano inventato questo mezzo di soccorso, di segnalazione con le torre. Per cui Naro, sia dal periodo cartagenese fino al 1600, con i barbari che andrevano in Sicilia le famose Isaragine, faceva parte di questo circuito di segnalazione. Il Cunaro era molto importante anche da questo punto di vista strategico. dopo il periodo, con l'ultimo di Chiaramonte, Naro ha avuto un periodo un pochino brutto, perché era stato condannato, perché Naro, cioè Naro ha diviso fama e gloria con i Chiaramonti, ma anche la dissuosione. Tanto è vero che avevano in odio alla famiglia di Chiaramonte, e tu metti lo stemma, voi vedete che al centro c'è lo stemma ragonese, vicino al castello, però se voi vedete sulla destra e qualcosa c'era, lo stemma di Chiaramonte è stato tolto all'arte, perché bisognava dimenticare sia il nome sia tutto. E un'ultima curiosità. Voi sempre, sappiamo che a pochi paesi c'è Palma, Monte di Montechiara, se leggete il nome al contrario, non è Montechiara, ma è Chiaramonte. Ci hanno chiamato per finire il nome ad una città talmente avviene in odio, questo nome che rappresentò con la lotta di indipendente da reggire per più di cento anni. Ma non hanno avuto solo il privilegio o l'ardire di dare un nome a un secolo, ma anche hanno dato un nome a un movimento artistico. L'arte Chiaramontana, Chiaramonaro, si è concentrata in tre punti ben precisi. Nel castello, all'ingresso della stanza del principe, proprio all'ingresso durante la sala dei paroni, ecco, vedete, lo stilo di Chiaramonte, le varmette di Capitelli e il simbolo delle vigne virgursi, perché la prosperità, la potenza e la ricchezza. Per il stesso motivo viene portato poi a Santa Chiaramonte e ancora nel Duomo. Il Duomo, perché ha dimenticato una cosa? Talmente non potenti questi Chiaramonte che nello sterio di Palermo hanno fatto affrescare le sale dal famoso pittore Cicco da Naro, Pindore di Naro, lui firma. E alcune tracce di queste le abbiamo un galtono al castello, nella cappella personale. Se prendi il castello. Sì, perfetto. C'è l'Agnus e Dei. Ecco, ma se venivano a prendere la foto perché si è messo con la spalla verso il muro guardando verso l'alto. E poi c'è anche Angeli. Però per notare che poi è rimasto. Perché quando hanno fatto i lavori di restauro, i signori restauratori hanno distrutto quello che c'era. Infatti, voi vedete che mancano dei pezzi. Distrutti. Nella sala grande, nella sala del principe, sulla destra, c'è una cappella privata. E non solo questo proprio. Ma molti anni fa, quando il castello diventò carcere fondamentale, siamo negli anni sessanta, le bifore del castello. Questa è un'altra cosa. Ecco, queste bifore che voi vedete, sono false. Non sono del 1600. E volgate in mano di cimitero. Perché nel periodo che diventò carcere fondamentale, hanno fatto dei lavori occulti, per cui se ne sono andati. sono rimasti solo, in nome dei carcelati, un certo San Gesso d'Avena, si legge bene, abitatore della serenissima città di Palermo, richiune in questo vecchio castello. E poi un'altra cosa importante. Se voi vi ricordate, nella stanza del principe, entrando sulla sinistra, c'è, diciamo, una feritoia. Una feritoia dove si pensa che doveva servire per difendersi. Nel periodo dell'Inquisizione, invece, non è servita. Serviva come prigione. Mettevano dei prigionieri per far vomitare gli delitti occulti. Cioè, lui, il prigioniere, non poteva stare dentro di stesso, non poteva stare ranicchiato, murato davanti. Quindi, o confessava colpe, che non aveva, o sarebbe morto lì dentro. Per cui questa era la nostra. Durante il lavoro e il ristauro, poi, dobbiamo dire che hanno trovato sia la stanza di Madonna Geselta, sia anche la stanza della regione Borbonica, con dei letti in boratura, in gesso. Invece che il capezzale è tutto in gesso. E poi, sulla sinistra, c'è anche il gabinetto. Ecco, questi sono i letti. Ci sono due letti con il capezzale in. E questo qua, se voi ricordate bene, prima del lavoro e il restauro, era tutto pieno di terra, fino alla minestra, che era chiusa. Poi è stato scavato e è venuta a luce questa prigione borbonica. Molte cose sono state scavate, trovate, ma hanno dato molta importanza. Un'altra cosa che voglio dire, c'è al centro e c'è una cisterna. Prima dei lavori di restauro c'era la famosa pila per lavare, perché i carcerati, sia maschi che donne, erano quelle mandamentali, quelle che dovevano fare un anno di prigione, per cui avevano molta libertà, e andavano a lavare i panni là. E' scombarsa pure questa. Una pila volgare, niente di che. Ma la cosa importante è che quella cisterna non era una cisterna durante il periodo del carcere dell'inquisizione. Era una prigione di punizione, che nel fondo ce l'ha disegnato come il gioco, si è detta Maretta. Maretta sarebbe il gioco siciliano della dama, che si giocavano in Sassolini. E tante altre cose che bisognava portare. E poi vedo un'altra cosa. Questa torre, dove avete visto la sala del principe, fu costruita nel 1330 da Federico III, quando soggiornò a Naro. Tante il soggiornato prima nel 1624, in occasione di questi grandi matrimoni dell'epoca, il suo figlio che sposava Cesarea Lancia. Dimenticavo una cosa che non mi sono ricordato ora. Il perché di Naro fu chiamata Fulgentissima. Voi ti senti parlare, quando si parla Naro Fulgentissima c'è una canzone. Il fatto di Fulgentissima sono diverse correnti di pensiero. Una, Dandor ha definito questo aperitivo Federico II, il famoso Stupermonde. Ma perché ha dato proprio questo nome a Naro? Palermo Fidelis, felicissima, Catania l'ha dotta e invicta. Naro invece Fulgentissima. Certo, in quel periodo Naro aveva come ospite, e veramente come ospite era come i signor Otto, la famiglia Lancia, Pietro Lancia. Pietro Lancia, più che Pietro Lancia, è Bonifacio Lancia. Bonifacio Lancia è sempre venendo dalla Scandinavia, venendo le parenti del Ruggero, quindi era uno svevo. Però Bebren aveva una figlia bellissima, Bianca. Federico II era un uomo di mondo, ha avuto tre mogli, meglio quattro, e tra la redomanza della seconda con la terza moglie ha conosciuto Bianca. Lui ha avuto la scalogna che non doveva avere un figlio, ma Bianca ci ha dato il famoso figlio maschio a evitare di bevere, ma ha presi. Poi qui ha dato il nome di Gesù, quella di Fulgentissima, non solo a Naro, ma ha dato alla moglie, che poi diventò moglie, la quattro moglie. Quindi vedete quella di casa qua. Ecco perché tanti monasteri, tante cose, perché qui c'è la seconda corte, quella non ufficiale. Quella ufficiale era Palermo, quella ufficiale era Naro. Poi qui Naro, ecco, perché era importante. Importante per questo. Poi un'altra cosa, a parte l'arte, la cultura, l'avete fatto mai caso venendo da Grigento al tramonto, il sole si riflette come brilla, sempre la città di Erdorado, perché quel tipo di tufo, dell'ino, sprende come il sole. Ecco perché è Fulgentissima. Fuoco, Ignes. E si vede anche da lontano. Quindi Naro ha avuto questo epitodo rispetto a tutte le altre, ha avuto sempre un modo particolare nella storia, perché è vero che nei libri di storia Naro si parla poco, però se la leggiamo tra riga e riga, Naro è ben inserita nella storia, perché fa parte della storia. Perché i personaggi che hanno fatto la storia della Sicilia prima dovevo erano personaggi che venivano da Naro, non ci arriviamo al fatto di quasi Borbonica. Perché nel fondo noi abbiamo avuto 13 dominazioni in Sicilia, non una, 13. Cominciamo da Sicani, andiamo poi ai Greci, Cartaginesi, Romani, Vandri, Goti, Arabi, Normanni. Poi abbiamo avuto anche i Borboni e in ultimi i Piemontesi. sono stati una dominazione pure, quindi non possiamo dire. Come? No, no, tutti, tutti, vi ricordo, li ho saltati, 13 e tutto, gli Angioini più che Francesco. Degli Angioini, infatti, ci stiamo parlando ora. Quando si parla di Vespe Siciliane, non è solo Palermo, perché anche Naro ha partecipato ai Vespe Siciliane. E infatti, se voi vedete, in quel elenco di governatori c'è Francesco Di Capiano, nel 1882. E infatti a Naro, il primo aprile del 1882, c'è la rivolta dei Vespe Siciliane, tre giorni dopo quello di Palermo. Quattro con l'uno. Chi dice 29 e chi dice il 30. 30 e 31 è uno. Chi dice invece 29, 30 e 31 è uno, quindi il quarto giorno. Ma dipende. Molte dicono francese veri e chi dice dal 29, altri dicono dal 30, però un giorno più, un giorno meno. La cosa importante è che hanno anche questi, hanno ucciso tutti i maschi francesi, mettendole per il collo legati dalla parte del muro che vedeva verso la valle. Per cui, Naro, quando fa qualcosa o la fa buona o non fa niente. Cioè, o ammazza tutti o subisce. Quindi è un poco strano queste cose quando si diceva cosa a Naro. Per cui, ecco, Naro ha attraversato la storia ed è stato il momento in cui si è rete a comune, come dicono gli storici. Quindi sia nel 1882 comune di Naro, possiamo dirlo. Mentre, come fondazione, noi siamo nel 680 a.C. quindi nel 2020, Agrigento, siamo stati con un amico professor De Rosa, un convegno di Agrigento, e l'assessore di Agrigento, con tanta invasi, alla fine ci dimenticava una cosa importante. Non ci aspettavamo, già sapete, nel 2020 Agrigento festeggia i 2600 anni di storia. E' un'attaccava. Cioè se chi sono attaccato a chi ti è andato a parlare a me, ce lo dico io. E' un'attaccava. Incominciato dopo lui. Ci sa, dimenticavo una cosa importante. Naro, nel 2020, 2700 anni su condizione. Perché Naro è fondata nel 680, Agrigento del 580. L'assessore mi guardo malamente. E non ha chiesto il motivo. comunque non è importante questo, Naro è sempre stato all'avanguardia, magari ora non è molto più considerata, anche perché colpa di tante cose, un esempio banale, si parla di paesi, paesi di Naro, paesi di Camastro, paesi di Campobello, no, Naro non è un paese, Naro è città, è sempre stata città, dal 1525, quando già si chiamavano terre, c'è un decreto ben preciso, da Carlo V è stato dichiarato città, per cui Naro può andare a questo probreggio, è una delle più importanti infatti in quel periodo, anche perché diventò ricca e diventò Naro, una delle città più andiche e più importante della Sicilia, ma ti ripeto, magari ora incomincia a essere un pochino molto poco considerata, ma non è colpa nostra del Nareggio, è tutta una serie di cose che successe, per una cosa voglio dire, che nel periodo di questo avvicinamento del Medioevo, anche se non è rimasta molta traccia delle dominazioni antiche, abbiamo un punto medievale, infatti la Chiesa, un altro esempio importante, ecco, ogni dominazione, o meglio, i Chiaramonti, che erano così potenti e ricchi, hanno lasciato diverse testimonianze qua, anche la Chiesa di Santa Caterina, Santa Caterina, che è stata fondata su una persistente moschea, ed era la cappella privata di Chiaramonti, considerate che a quel tempo, pochissime chiese erano all'interno delle cerchie delle more, che erano tutti conventi, tutti fuori, quelle invece all'interno, fatte su una persistente moschea. Santa Caterina che è importante, ma non solo perché era diventata la cappella, ma perché Santa Caterina era il simbolo dell'arte, pur assieme al castello, dell'arte Chiaramontana, ma non solo la Chiaramontana, perché in quella Chiesa hanno convissuto e lavorato due entità, gli arabi e i siciliani, che nel loro unione hanno ritrovato il verso il gusto del bello. Infatti la Chiesa di Chiaramontana è veramente un giello medievale, uno dei pochi rimasti. Se vi ricordate, molti anni fa è venuto a andare il sindaco di Valenzienne, Normandia, quando c'è la famosa guerra del vino, il sindaco a quel tempo era Giuseppe Dranova, ex imbiegato di banca, mio compagno di scuola. Quando il venuto è venuto dall'agrigento, ha voluto venire a Naro per vedere la Chiesa dei suoi padri, e l'agrigento non ne aveva, e non immaginate quale scompostamento ci ha portato nel programma di visita, perché è dovuto venire a Naro non sapendo quello che poteva trovare o meno. E quando è venuto a Naro è rimasto veramente colpito perché ha trovato traccia della sua gente, della sua normandia. Quindi non è solo importante dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista affettivo. Una Chiesa di Santa Carina che certamente non è più i fasti del passato, ha poche opere ormai all'interno. Se togliamo la pietà di Giuliano Mangino, se togliamo il fondo battesimale, la Madonna di Giorgio da Milano e quel crucifisso che ci è in fondo, non è rimasto molto. E' rimasto ancora un pochino di tracce di quel famoso cecco da Naro dell'Osterio di Palermo. Questa è un pochino assurda la cosa, perché? Voi sapete che nel periodo dopo la Controriforma disegnava quasi alla fine del Settecento, si è visto che il barocco, che era stato tanto sannato, tanto portato in auge, Naro è stato la prima in città da avere il barocco, 1619, quando noto fu dopo il 1693, per cui Naro è il barocco, quello era comunque un barocco rococò. Ma Naro è un barocco narese, ho detto da Cesare Brando. Non è solo il barocco narese, ha in Brusti perché il nostro padre Milazzo, il fratello era Roma superiore, per cui Monda mandava qua tutti i frati francescani che tornavano al Messico, infatti molte cose si rispirano alle chiese messicane, quindi c'era questo gusto del barocco qua, perché c'era il padre che pagava tutto. Per cui dicevo, il fatto di ritornare al neoprasticismo, c'era prete il preposto Teipo. Questo questo Teipo è dato preso da tale, diciamo, un verbone così cristiano di rinnovamento, di ritornare alle origini, a quel di Orto Rosso, che ha fatto cancellare tutti i dipinti di francesco. Perché? Sapete perché? Perché erano vestiti alla greca? C'erano note. Per cui per lui è diventato già un segno bruttissimo, è andato in chiesa, perché ha cancellato tutto. E nel suo ferrore di ortodossia, chiamiamolo così, si è fatto saperrire nel primo grattino dell'altare. C'è una cosa assurda. Però, diciamo, tornando un pochino alle opere, le opere sono quasi tornandate perse o disperse, e ci sono delle opere che non appartengono sicuramente alla chiesa. Prima la pietà di Giorno Vingino, che viene dalla chiesa di Sant'Antonino. Poi abbiamo questo fondo di quattesimale, che non era in quel posto, perché se vuoi vedere ci sono quattro scudi. Siccome la chiesa è dedicata a Santa Chaterina, dall'Essantria però, non alla Sina, e se voi vedete nel quarto scudo, è verso il muro e c'è la ruota, diciamo, del soprizio. Per cui è impossibile che poteva essere non visibile ai fedeli che andavano. Quindi quel fondo di quattesimale non fa parte di quella che fu portata. E poi è divisa in due pezzi. Toccando, se qualcuno va, magari ha messo qualche marrimonio, vedete che la parte superiore è fredda, quello di sopra, di sotto, invece è meno fredda. Quindi c'è una in marmo e l'altra in pietra. C'è una delle cose strane. E un'altra cosa che possiamo vedere, ma se facciamo, ecco, la pietà. Ecco, tutti chiamano la pietà, ma questa non è la pietà. Non è perché non dovesse una imitazione a pietà di Michelangelo, perché Michelangelo con tutto il suo rispetto, ma anche il nostro, non scherza. Il nostro, invece, è una dolore. È il dolore di una mamma. Perché voi vedete, differisce in determinate cose. Se vi ricordate la pietà di Michelangelo, il Cristo è disteso sulle ginocchia della Madonna, giusto? Questo, invece, non è disteso. Questo è appoggiato e c'è la mano che si apreggia il capo. Come se ancora il figlio fosse ancora caldo. Cioè, era morto da poco. Quindi cercava quasi, non dico di animarlo, ma qualcosa di simile. Poi guardate il viso. Il viso del Cristo è molto più vecchio rispetto alla madre. La madre, per legge naturale, deve essere più anziana, no? Invece è duro, un viso duro, perché in questo modo significa il dolore. Ma è più giovane il rispetto. Perché questa è una concezione diversa. Nella concezione tedesca, cioè, non è l'uomo, il Cristo al centro della Chiesa Cattolica, ma è la Madonna, quindi l'elemento femminile. Cioè, Naro ha parecchie cose strane che possono magari far capire la differenza con le altre opere di altre città. Ma, un'altra cosa particolare che vi voglio dire, è parlando di elemento maschile femminile, non è fuori tema, che non è del medico, ma è il barocco. Avete voi davanti agli occhi l'altare maggiore della Chiesa di Don Francesco? Sotto c'è l'ultima cena, sotto la mesa. No, no, è questo sì, sì, ma c'è una cosa. Però non è quello il fatto di vedere la donna, ma perché c'è la donna? Perché? Non è solo perché c'è, ma perché. Considerate che quando Leonardo ha dipinto l'ultima cena, siamo in 1498, se non sbaglio, a Milano. Questo luttare fu fatto in 1899, quindi a distanza di 400 anni. Questo Vigi che ha fatto, avrà visto l'originale? Perché l'originale fu scoperto una ventina di anni fa, quando l'hanno fatto ripulito. Quindi questo Vigi, evidentemente, aveva avuto delle informazioni, per cui accanto c'è non un apostolo, ma un apostolo. Quindi Naro racchiude parecchi misteri. Come se non ci avete notato che sopra l'altare maggiore, nella nicchia dell'Emmacolata, c'è uno stemma. C'è la bandiera di Marta, perché Naro è la sede del Consolato di Marta. Perché la chiesa di San Francesco, il convento, è uguale a quello che c'è a Marta. Io l'ho visto andando a Marta, uguale. E all'interno ci sono diverse opere di Marta, portate a copia di Marta. Quindi ecco l'importanza, fino a un certo periodo di Naro. Solo che Naro incomincia a essere un pochino meno conosciuta, o meglio forse non meno conosciuta, un pochino più declassata, nel periodo borbonico. Nel periodo borbonico finiscono le comarche. Naro era stato capo a Comarca, era sede di Senato. Abbiamo nello stemma del Comune, ancora Senato, il suo popolusca, la ritanos. Quindi è una cosa importante. Fu ripetuto da Ferdinando del suo borbonico, un diploma che ancora c'è nel mio ufficio. L'ho conservato, l'ho trovato, l'ho salvato, però è proprio visibile a tutti. Per cui Naro era anche molto importante nel periodo borbonico. Però quello che andava scemando invece, il fatto che non fu capo a Comarca, passò un finito per le comarche e con dei polboni sono diventate le intendenze. Per cui Naro faceva parte l'intendenze di Agligento. Per cui finisse capo a Comarca, finisse le città parlamentari. Finì tanti privilegi e tante cose importanti che aveva. E' stata diventata semplicemente una città di provincia normalissima, senza più nessun appiglio che potesse dare il lustro. L'unico lustro che ha avuto da questo governo biemontese, chiamiamolo così, è stato davvero il primo senatore d'Italia. Ma questo non ci ha dato nessuna importanza. Anzi, ci hanno portato ad essere una città normale. Infatti da quel momento noi non abbiamo avuto più nessun. Ma l'unico non è più buono. E più va, più scolose va. Come si dice. Ora, come? Ma sai, il fatto che noi cerchiamo sempre di portare avanti i discorsi, di cambiare, di cercare di portare Naro, non dico lo spendo di prima, però siamo sempre sotto il tallone di tante situazioni economiche, senza lavoro, i giorni che se ne vanno, si hanno diviso come famiglie dei propri figli. Cioè, Naro non è più come prima. Ecco, Naro è solo nostalgia. E' sempre una città di leggenda. Questo è pure vero. Una città che affascina. La storia della storia è scolpita nei suoi monumenti, nelle sue strade. Però è rimasto un passato. Un passato che potremmo far rifiorire, ricordare e tramandare. Ma tutto non è solo che loro possono fare solo i cittadini di Naro con la buona volontà, ma anche le amministrazioni che si ricederanno, si sono ricedute e possono fare qualcosa. Se loro non si muovono, resterà semplicemente storia scritta. Noi cercheremo di scrivere qualche rigo di qualche pagina di storia di Naro, ma certo non sarà più la fulgentissima di prima. Comunque c'è un fatto. Naro risorgerà sempre, come Laureo Finice, come diceva fra Saverio, vittorio dei suoi ceneri, e Naro risorgerà sempre, avendo altri nomi, altre occasioni, un'altra città. Speriamo che sia così. Grazie dell'attenzione. Siamo arrivati? Buonissimo, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, il professore Novella, questa che vedete sull'immagine, prima che venisce a batteria, lo dice il professore. Sì, sì. Forse questo voi non l'avete mai visto. Allora, si trova nel Duomo Normano, in danno il Duomo Normano è 59,60 metri per 9,50. È un dopo lavoro che hanno fatto. Ruggero ha fatto qualcosa di importante, veramente, anche se è combinato a cerezzerie. C'erano all'interno, nei bassi rilevi. Uno era vicino alla sagristia, che i preti chiamavano la moschea, perché là c'era la moschea. E questo invece si trova all'ingresso della, diciamo, della cappella che ha fatto Martino il giovane. Ed è l'annunzazione. Questo non è riuscito a portarla via. Se voi notate, è stata già prescolpita, tirata, ma c'è detto io che un pezzo si è tolto. Ed è rimasto solo questo. Due cose non ci perdoniamo a chi ha fatto i lavori. Primo, di non controllare bene quello che hanno rubato. Secondo, visto che non l'hanno conservato. E terza, per vedere quell'altro. Accanto, c'è la chiesa di Sant'Antonino, vi ricordate tutti. In questa chiesa, che era tutta piena, completamente piena, diventò ovile, poi è stata ripulita. In questo modo, c'erano due cose importanti. Quando hanno fatto i lavori, diverse cose hanno trovato, giusto? Però c'era una donna dormiente che era accanto alla casa, che c'era accanto alla chiesa. E fu presa e buttata, perché c'era una specie di carnale buttata dentro. Sulla destra c'era la sala degli scolatori. e c'erano delle nicchie, come c'è a Santa Catelina, dove mettevano i morti a scolare. Però c'era un altare, molto strano, sulla sinistra, che rappresentava un orologio. Cioè, l'indale non è che era solo l'are, un orologio dipinto, che segna l'oratezza. Questo qua non esiste più, questa è l'unica foto fatta. Sono riuscito ad entrare con tanti permessi, ma non l'hanno salvaguardato, perché dovevano mettere un vetro a protezione di questo, perché questo è gesso, è gesso dipinto, perché il direttore del lavoro disse che non c'erano più sordi. C'è il comune, neanche questo. Solo una foto, perché ho insistito tanto, ed è l'ultimo ricordo che c'era di Chiesa Dandone. Ecco, bastavano poche cose, pochi accorgimenti per avere Naro un qualcosa di importante, come abbiamo visto una grande occasione per i giganti. Hanno trovato i morti con le teste grandi, che sembravano palluna, però con tutto ciò nessuno si è interessato. O meglio, io l'ho saputo distanza di tempo, ormai chissà dove hanno andato a fine queste cose. era la prova che Naro fu abitato o costruito dai giganti. Quindi i giganti, come dice la Genesi, erano veri, esistevano, quindi potevano anche essere da Naro, perché la storia, la leggenda, non è sempre leggenda, ma un movimento di storia ci deve essere. Grazie ancora. Se c'è qualche domanda, siamo ancora nel loro. Oggi abbiamo rispettato la grande. Sono stato proprio... Il professore a Stasina aveva bisogno di un po' di Gatorade, signore, un po' di Gatorade è più stancato. per ampliare questo ragionamento quando riguarda la presenza, la venuta di Nandalighieri quindi come centro culturale Naro. Un'altra cosa che a me è piaciuta come l'hai detto tu, quindi, per ripetere, come si è provolto, è un po' di guarda Santa Caterina, le statue che dipinde per essere, diciamo, più... la presenza di Nandalighieri, la presenza di Nandalighieri, è una cosa molto particolare fino a me sono umano. No, no, è un'altra cosa ancora, la data della... della pietà, della dolore. Dolore, io chiamo dolore. Mi sembra... La decimulazione crinica, non l'ho detto io, ma... mi sembra sia antecedente a quello che è la data della pietà di Milano. Noi siamo stati un pochino... Quindi non è una copia di Nandalighieri. No, 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 è una cosa diversa, è diversa, è diversa. A proposito di Nandalighieri, volevo dire un'indiscrezione. Quello dell'ospedale è importante perché quello delicato dipendia da un'altra cosa che è un altro passo di Naro, però Naro non ha neanche la scritta perché poi hanno tolto la scritta ospedale, non capisco il perché. poteva restare anche se diventò diventò museo, ospedale. Voglio dire una cosa, con il barone Bella, buonanima, un nostro quasi appassionato della storia di Naro, di Campobello, abbiamo fatto delle ricerche di Erosia. Lui diceva che a Naro, a la storia di Naro, ci sono delle cose particolari. Allora, abbiamo la Pontata Paradiso, ci siamo? Un birno ci vediamo. Giusto? Poi c'è Purgatori c'è, Virgito c'è, tutti i contrari sono. Dico, tutte queste contrari ci sono, se non sbaglio, amico, giusto? Benissimo. In un, ci sono tutte queste contrari che guarda caso sono tutte citate nella Divina Commedia. Accomunamento di questo, nella Porta di Giuratoria di Palermo, sarebbe nelle tribunali antiche, dite ufficio del reggiscio antichissimi, c'è una donazione di una signora di Naro, non più donne, che dice una donazione di lui, sostentamento di lui Dante. Ora, se Dante, girando, peregrinando per le corte si è arrivato anche a Naro tutto può succedere perché tutte queste contrari non per caso sono forse perché sono molto precise, c'è la coincidenza con i giri, quindi un'indiscrezione così, solo poi il barone è bello, purtroppo non gesto più di noi e non si è continuato alle ricerche via di genere. Prego, signor Forza. Sì, però, ormai non... in che senso? Ah, sì, sì, certo, sì, ci erano, nel primo di Federica c'erano 2.000 persone, questo non lo ricordo perfettamente, e 18.000 abitanti nel periodo che c'è stato il coleranno nel 1575, 18.000 abitanti, ne sono morti 12.000, sono rimaste 6.000, questi sono dati dall'Istituto Storico di Naro, non lo dico io, nel 1921 è una cosa che ho pubblicato io la settimana scorsa su Facebook, i dati Istat dicevano che a Naro c'erano 21.000 abitanti, il... il tetto massimo, il tetto massimo, sì, nel 1921. 21.000. 21.000. settanta, io ho fatto una leggera a scuola con i miei ragazzi e siamo venuti a Berna al Comune e abbiamo visto come questa popolazione via via è andata decrescendo, ma in maniera così esagerata, repentina. L'ultimo periodo, sono stato negli anni 90, già eravamo scessi, ma di... ora è il... ora è il... il periodo che stiamo vivendo ora è il proprio l'apice in negativo, è... meno di 7.000 abitanti, perché 7.000... scusate, meno di 8.000, 7.800, 7.800, però... sono ancora residenti, ma non vivono più. Non vivono più. Io volevo dire una cosa, a proposito dell'importanza di Daro, prima che si costruisse Palma di Montecchiaro, cioè, in una stella importante di Palma di Montecchiaro, furono andate, ho un libro antichissimo di Dio Forge, ma è pubblicato nel 2006, è un libro antico, non so chi deve avere l'altro, e si dice che queste monache, prima di andare a Palma per fondare questi monasteri, si fermarono a Naro per avere rifugio, per trovare, per poter affrontare un viaggio per loro lunghissimo. Abadì, sono le carisse c'erano, ma non erano nelle, non so in quale monastero, diceva che si sono fermati a Naro, fermati a Naro, per potersi, per potersi, per poter affrontare, e poter affrontare tutti i viaggi al gioco di asino, da Naro, a Naro, a Montecchiaro, a quel tempo. quando faremo l'ultima lezione con me, parleremo di un batterello di questi viaggi che facevano dei molti conventi tra un convento e un altro, sarà una cosa molto simpatica. una cosa sicuramente una cosa da tenere sicuramente in considerazione è che fortunatamente fanno belle resistenti queste cose, speriamo, 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 le distanze non permettevano la facilità di quella che c'è attualmente, cioè io vado a Roma e in un giorno riesco a vedere a Pietà, riesco a vedere San Pietro, riesco a vedere il Colosseo, riesco a vedere i musei vaticani, una volta magari si sapeva che a Roma c'era una cosa tunna che ero Colosseo, non c'era questa, quindi molte cose che noi per ora possiamo immaginare, la chiesa di San Giovanni in Laterano, Sant'Agostino ha i lineamenti, ma chissà come si è arrivati ad avere questi lineamenti, questa similitudine, la famiglia Vinge l'ha fatto, è nemmeno un caso, per esempio gli armati della chiesa di San Francesco, della sacrestia della chiesa di San Francesco non tutti lo sanno, all'interno di questi armati magnifici, linei, all'interno c'è una carta da parati, una delle prime forme da carta di parati che è dipinta a mano e sono gli angeli di Castel Sant'Angelo, per dire, sono, Naro ha molte similitudini con la Roma dai papi. Perché, esupeto, padre Melazzo, il fratello era superiore a Roma, per cui il rapporto era ben preciso e quindi il fatto di San Agostino, la famiglia Vinge, orionza di Palma di Montecario, è una famiglia proprio molto ingegnosa, l'ultimo era il seno Vinge Vinge, non so se la lettura io l'ho conosciuto, il seno Vinge, le chiamate il seno Vinge, un genio, solo che aveva un difetto, non ne dava, non dava agli altri la possibilità di conoscere la sua opera, cioè lui fa il costruire, le chiese le addobbava per Natale, per Pasqua in modo bellissimo, ma non diceva gli altri come faceva, distrusse tutto, ma anche per Natale, San Francesco è un genio, quindi una famiglia importante, ecco perché Naro aveva rapporti contanti, perché Naro era molto ricca, con 20 chiese, ricca, ora puoi bene, abbiamo finito, vi ringrazio di essere stati con noi, all'uscita i ragazzi possono firmare, c'è una cassettina trasparente, se ci volete dare una mano, vi ricordo che il prossimo venerdì parleremo con il professore verde del barocco caritano, buona serata, buon fine settimana e buona festività di Lucci Santi a tutti voi.